La novità è un po' questa, nel senso che si possono eseguire interventi di chirurgia per la patologia cerebrale senza onere per il paziente. In realtà la struttura era stata già autorizzata nel 2018 ad eseguire questo tipo di interventi, ora però c'è l'accreditamento da parte della ASLA. E questa è una novità importante, molto importante per il territorio di Arezzo, dove non c'era questa disciplina chirurgica e ora invece esiste. Arriva anche la neurochirurgia al centro chirurgico toscano, che adesso ha ottenuto un nuovo importante accreditamento. La regione toscana ha ritenuto, con il parere favorevole del direttore generale, del dottor Durzo, della USL, del dottor Durzo e di quello dell'azienda ospedaliera di Siena, del dottor Barretta, di riconoscerci l'accreditamento per gli interventi neurochirurgici. Eravamo già autorizzati, però l'accreditamento significa che siamo riconosciuti nella programmazione regionale e che quindi le persone che purtroppo dovessero aver bisogno di interventi neurochirurgici li possono fare, se vorranno, anche da noi, gratis, nell'ambito del sistema sanitario nazionale. La struttura retina aveva infatti già ricevuto l'autorizzazione per effettuare gli interventi. Adesso, però, per questo tipo di operazioni, il centro chirurgico è diventato una delle strutture utilizzabili attraverso il servizio sanitario nazionale. Ad Arezzo a questo punto si possono effettuare tutti i tipi di interventi che riguardano la neurochirurgia, quindi gli interventi per la patologia della colonna vertebrale e gli interventi per la patologia cerebrale, come tumori, problematiche vascolari, idrocefalo, insomma, si può affrontare un pochino tutta questa branca. Le ultime settimane, inoltre, hanno visto anche l'acquisto di due nuove apparecchiature all'avanguardia che hanno ampliato notevolmente le potenzialità di intervento di questa struttura. Devo dire che si è partito da un sistema di navigazione per la chirurgia cerebrale per integrarlo poi con un'apparecchiatura che si chiama OARM, che è un sistema di TAC intraoperatoria, fino all'ultimo arrivato che è un robot, un robot vero e proprio per la chirurgia vertebrale che effettivamente è una grossa novità, è il primo apparecchio di questo tipo che c'è in Italia. Insomma, siamo molto contenti di questo.